Aria di novità all'interno della famiglia X di casa BMW. Direttamente dallo stabilimento statunitense di Spartanburg, dove viene prodotta e assemblata, arriva infatti la nuova generazione di BMW X4. La sua missione? Contribuire ad aumentare le vendite già stellari della gamma X, che dall'anno della sua nascita, nel 1999 ad oggi, ha venduto 5 milioni e 600 mila unità nel mondo. Ciò significa che un'automobilista su tre che sceglie BMW, sceglie una BMW X. Ma torniamo a noi, o meglio, torniamo alla nuova X4. Dal punto di vista estetico, cambia nelle forme, assumendo, se possibile, maggiore sportività, con un design atletico e muscoloso. A caratterizzare la parte frontale è la grande calandra a doppio rene dall'aspetto tridimensionale, accompagnata dai nuovi fari LED gemelli, dalla linea dinamica e dai fendinebbi a orizzontali. Il tetto in stile coupé scivola sull'unotto posteriore con un'elegante sporgenza, prima di cadere con una linea netta sul retro. A cambiare sono anche le dimensioni. Rispetto alla precedente edizione, infatti, BMW X4 si allunga di ben 8 cm, tutti a favore della comodità e dello spazio interni. Chi siede dietro ha ora a disposizione 2,7 cm in più per le gambe. Il bagagliaio, invece, offre una volumetria che da 525 arriva sino a 1430 litri. Eccoci allora a bordo. La plancia, disegnata con cura, rispetta i diktat di lusso e pregio che il marchio impone, con linee rielaborate in chiave moderna e materiali di altissima qualità. La strumentazione è completamente orientata verso il guidatore, che può scegliere tra sei differenti colorazioni per le luci d'ambiente, abbinabili fra loro sino ad ottenere 12 combinazioni. Sette, invece, le varianti disponibili tra le motorizzazioni diesel e benzina. La più potente, quella dedicata a chi sceglie la sportività come stile di vita, anche quando si trova a bordo di una city car, è la BMW X4 M40i, che sviluppa una potenza di 360 cavalli. Tutte le versioni sono abbinate al cambio Steptronic a otto rapporti e trasmissione 4x4 intelligente BMW X-Drive. Il propulsore più rappresentativo per il mercato italiano è il 2000 diesel da 190 cavalli. Ma le prestazioni non sono tutto per questa vettura che introduce tutte le novità tecnologiche presenti sul mercato. La X4, che di fatto è la versione sportiva del SUV compatto X3, declina infatti dalla sorella i sistemi di assistenza alla guida più recenti. Tra questi, il pacchetto di sicurezza Driving Assistant Plus, che comprende l'assistente allo sterzo e l'assistente al mantenimento della corsia con protezione anticollisione laterale. La nuova BMW X4 dispone anche delle tecnologie del BMW Connected Drive, che danno assistenza completa alla pianificazione della mobilità personale, fornendo per esempio informazioni sul traffico in tempo reale, sui parcheggi lungo la strada, oppure la prenotazione di alberghi e ristoranti grazie ai servizi concierge. Ma le belle notizie non finiscono qui. Da BMW ci fanno sapere che a breve sarà disponibile la prima X4 griffata M, dotata di un sistema di trazione integrale che deriva dalla potente M5.